Un bentrovati, eccoci qui a scoprire la tendenza per la giornata di martedì che vedrà un break dall'instabilità su un po' tutta l'Italia. Anche all'estremo sud Italia dopo le piogge troveremo delle schiarite via via sempre più ampie, ultimi fenomeni sulle zone proprio più interne di Calabria e Sicilia ma la tendenza appunto al miglioramento con schiarite anche ampie per venti più asciutti da nord di Maestrale. Altrove centro nord un po' di variabilità di passaggio specie all'alto a Tirreno ma guardate poco da segnalare solo qualche fenomeno sull'arco alpino si addossano i fronti atlantici. Nota saliente le temperature che su molte città del nord Italia viaggeranno tra 14 e 17 gradi nel pomeriggio. Dettagli più precisi però come sempre sull'app di Trebi Meteo.